Amici di Zanzaro, un saluto dal vostro inviato Fernando Raffaele dalla Calabria. Oggi vi farò visitare Nardo di Pace, uno dei comuni in provincia di Vibo Valencia, diventato famoso per un sito geologico che qui è stato rinvenuto. Infatti, dopo il rinvenimento di queste famose pietre, Nardo di Pace è detta la Stone Age d'Italia. Nardo di Pace, che fino a qualche anno fa era famoso per essere il comune più povero d'Italia, da qualche anno è diventato noto per questi reperti. Allora, andiamo ad iniziare questo giro sul primo sito delle pietre di Nardo di Pace, accompagnati dalla guida turistica Graziella Care. Qui sono stati individuati una serie di tre ammassi di blocchi rocciosi granitici. Queste ammassi si presentano in modo irregolari nella loro forma, ma tendente a formare dei cumuli di altezza, variabili da 6 agli 8 metri. Alcune di queste strutture megalitiche possono variare da un tardo neolitico all'inizio dell'età del bronzo e della civiltà micenea. Quindi possono variare tra il terzo e il quarto millennio avanti Cristo. Queste costruzioni megalitiche sono per lo più legate a pratiche funebre o rituali, partendo dal bacino del Mediterraneo per poi radiarsi verso l'Europa settentrionale e meridionale. Allora qui, da questa fessura che vediamo all'interno di questi megaliti, era detta il punto di osservazione. Praticamente tutti gli antichi popoli utilizzarono questo metodo per stabilire con precisione la data fondamentale per la pianificazione agricola e per la navigazione. Tra l'altro tra queste fessure è possibile osservare la foggia della costa, che è in corrispondenza con la fiumara d'Allero. Allora, abbiamo detto terzo e quarto millennio avanti Cristo, ma come mai è stato scelto dalle popolazioni dell'epoca questo luogo per realizzare questi geociti? Perché è il punto più alto, quindi è un punto non facilmente raggiungibile da nemici, è un luogo di culto molto lontano. Un particolare che vogliamo far osservare ai nostri telespettatori, che troviamo qui nel geosito, è la cosiddetta lacrima. Spieghiamo meglio di che cosa si tratta. Allora, questa lacrima la troviamo in questo sito. Il sito A sono i 110 re, i feretri del mare, per cui le donne venivano inviate qua a piangere per la tomba del loro re, per la loro mala sorte. Siamo nel secondo sito, nel sito B delle pietre di Nardo di Pace, dove c'è un particolare importante da vedere. In questo sito ci sono delle incisioni molto importanti. Abbiamo la sepoltura dei popoli del mare, le cui salme furono trasportate dal sud del Mediterraneo in navigazione. Altre due incisioni sono l'astice, con il livello del mare, e la X tau, la tomba dei signori. La T rappresenta tau, vuol dire morte. La X è tomba, signori. Su questa pietra abbiamo una delle più importanti incisioni delle pietre. Vedete, l'uno e lo zero. Mentre l'uno rappresenta i popoli che abitavano questi luoghi, lo zero rappresenta il mare, quindi i popoli del mare, e cioè a dire i pelaggi. Allora ringraziamo Graziella Care per queste sue spiegazioni e invitiamo tutti a visitare i GeoCity di Nardo di Pace. Grazie. E siamo giunti così alla fine del nostro spazio, amici di Zanzaro, da questo luogo così suggestivo, da queste pietre posizionate dall'uomo circa 4.000 anni fa. Il vostro inviato, Fernando Raffaele, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata.